io ah stavo inserendo a che dubbravo? no ma che stavo facendo? che cazzo ne so che stai facendo? non lo so non lo so devo cambiare questa come a origine di merda ce l'ha messa una ramba molto alta tipo a bere perchè c'ha dato il gioco sulla ditta perchè è una cosa che c'è non lo so questo programma come tutti i programmi non lo so non lo so non lo so non lo so tutti non solo io quindi l'applicazione si apre male questo scatto perchè è un bit diverso dal processore capisci qual è il problema? e se lo apri con quello sotto invece? e se lo apri con quello sotto invece è un conflitto e muore perchè con quelle buone magari non si sente questa cosa ci gioca con quelle buone computer no ma con questo si sente la cazzo di cose si si ma è origins perchè quando te l'ho aperto stamattiva scattava tutto è uno bravo bravo a giocarci no ma non diventerai mai uno bro bro finchè non mettono il crossplay perchè ci sono sempre i down e vabbè ma migliori perchè giochi da solo contro 3 o 2 se non è uno uno non è un problema uno non scopriamo solo ma due già che sono svegli che scopano come loro sono i coglioni ma non già parte scappata cioè è già tutto morto ma quando mai perchè scappare? combatte se ci riesci bene o no niente muori se ne fai un'altra non c'è un mitra qualcosa Alla gato fui inda Alla gato inda No per ora no Ciao Guys Noi 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 No 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 What the hell I'm going to kill you What the hell What the hell is that? 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 What the hell? What the hell is that? How to aller me? I want you to run I don't have the weapon Shit Ma a caso ruotalo tutto Coraggio su la cruce Tu posto di merda La scuola è una scuola Heads up! Ring's close on one! Extended life mag here! Level one! Attention! There is a new kill leader! Heads up! New kill leader! Forty-five seconds! Ring's far! Heads up! Heads up! Good morning. We will close it. Ring's coming in. Cash card! Heads up! Heads up! Let's go this way. We are here! All the ninja here! Man, I'm gonna die. Here is an astronaut! Three of these. Nemmeno an'arma. Solo la corazza blu. Basta. All'artiglieria. Che ho il look buono, eh! Tre casse di quelle. Che di solito c'è anche una wingma. Una. Una wingma. No, no. Almeno una, l'altra. Anche una pistoletta arangione. No. Bene. Grazie, Gio. Attenzione! Minchia, che bello, bello. Quello che voglio io è quello. Che! 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 Ma si è bloccato! Si! Ma perché, porco di Dio! Non è giusto! Ma mi faccio l'enzia partita! Non mi da nemmeno un'arma e poi mi si... poi mi crash! Ma è su Google! Il bello è che ce lo scrivi su Google! Nessuno ha problemi, porco di Dio! Solo tu! Si! Questo è meglio! La sta! Guarda, l'opera è ripreso! Vivo! È vivo! Cioè guarda quello là, quello è senza vita da un'ora e noi abbiamo il medico in squadra Non lo so, io non gli dico un cazzo, tanto sta partita è finita già, guarda Ah, sono morti Sto andavano sole, che hai a fare? Di che cosa? Quelli che devi comprare con i soldi Vabbè ma ora quando nascono ti puoi accattare Ora arrivo qua a morire pure io Sì, sono santo Sì, sono santo Sì, sono santo Sì, sono santo Where are you from, guys? Sì, sono in una hotzone Sì, sono santo Sì, sono santo Where are you from? Io e il cecchino siamo forti Io e il cecchino siamo forti L'altro è a livello 9 E quindi È difficile Sì Sì oh no leave me leave me dammi l'arma dammi l'arma Dio santo Un minuto non ho una siringa to the ring 30 secondes left Grazie a tutti. 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 Perché è un'altra squadra? Mi c'è buggato il pompa. Guarda. Ah ora no. Mi c'era buggato prima. Porco Dio. Una cosa da pazza. Questa è un'altra squadra. Questa è un'altra squadra. Un'altra squadra. da dietro. Da dietro figli di puttana. è un'altra squadra. Ah è 11 kg. Attenzione. Ora qua chissà dove cazzo stanno camperando tutti. Un po' di FIFA potter. Un po' di FIFA potter. Aspetta. Pao. No, siamo dentro. Uno solo eh, sennò avremmo già trovati, sarà una squadra. Stay unit, don't go alone. Che puttana. E dai però. A stare close. Can't stop. vai gg 12 kill attenzione you are the apex champions